musica 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 salva a tutti amici di in cucina Chef Gabrielli io sono Chef Gabrielli e sono qui oggi per un nuovo video blog allora da aprile 2015 a fino a che non chiudo la pagina o almeno per questi primi tempi io abbiamo deciso un attimo e regoliamo un po' la luce perfetto abbiamo deciso che ogni mese cambieranno i giorni nei quali verranno caricati i video durante la settimana infatti il titolo di oggi è Chef Gabrielli video blog quando carico i video ad aprile allora ragazzi sono qui oggi in questo video blog molto breve per dirvi semplicemente che io i video li caricherò farò quando allora calcolare ragazzi io i video li faccio sempre venerdì sabato e domenica più delle volte la domenica e alcune volte il sabato e quando io vengo qui a Leo perché io questo non è casa mia raga questa bella lavastoviglie che ora mi sposto in modo che il cameraman inquadra anzi l'inquadro io per il cameraman quindi il cameraman togliete questa bella lavastoviglie questa bella lavastoviglie è qui ragazzi che vedete in azione non è di casa mia che sia chiaro ragazzi ok ho fatto io una ripresa al posto del cameraman perfetto ora io si sono curate le camera ok non me vedo io ma bensì io vengo qui a Leo dove ho lo studio e la sede e la buona gloria per fare i video quindi io quando vengo quando posso a fare i video e che dirvi altro che quindi quando vengo a Leo nelle giorni che posso faccio un bel po' di video due tre questo è il ecco me la passo io che scarica te amurio e i video ancora li faccio due tre minima due tre due tre ogni volta se vengo qua questo è il quinto video calcolate quindi quando vengo qui a Leo mi faccio un bel po' di mucchi di video da caricare quando posso qui a volte vengo però non posso farli per formare i tecnici o perché non ho idee però vengo pure per allenarmi nella cucina quindi va bene ragazzi questo video vlog è dura due ore vi voglio dire che nel mese di aprile 2015 i video i video verranno caricati durante la settimana il lunedì mercoledì e venerdì entro le 21 quindi entro le 21 massimo 22 avete il video di solito se ci saranno problemi tecnici o problemi per il caricamento dove vi lo conosceremo sulla pagina oppure suonere facebook sulla pagina su google plus o su twitter detto questo ragazzi il nostro video blog è finito vi invito a spiegare mi piace alla mia pagina facebook in cui c'è uno chef Gabriele a iscrivervi al mio canale youtube e google plus in cui c'è uno chef Gabriele scusate a seguirmi su instagram in cui c'è uno chef Gabriele e su twitter in cui c'è il nuovo chef G askatemi con l'asta che chef risponde su ask e seguimi anche su ask.fm in cui c'è uno chef Gabriele ogni tanto logicamente entrate sul mio blog della piattaforma di giallo zafferano in cui c'è uno chef Gabriele per rimanere aggiornati sulle ultime ricette da chef Gabriele e il nostro team per ora è tutto e solo per ora al prossimo video blog delle date sarà caricato a ma maggio regia? si mi ricordi si il prossimo video blog per le date è previsto a maggio giusto ho avuto un altro dubbio e detto questo da chef Gabriele la regia solo per oggi e solo per adesso e poi al prossimo video